Amico mio, questo ragazzo siccome non aveva niente da fare, ha istituito un altro premio oltre a quelli del pubblico online ed è il premio Claudio Capone e io chiamerei, grazie chiamiamo sul palco qualcuno che lo ricorda un po' eh si direi, chiamiamo sul palco il figlio, Davide Capone una metamorfose, è identico, è impressionante, come stai? beh, beh, bello il microfono? è qualcosa di familiare dici? si, poco poco l'ho fatto apposta? eh, buonasera ecco, io passo da un timido all'altro, stasera è meraviglioso è lo stesso segno voi dei Davide, sono tutti cosciuti dei chiamati uguali? eh si Davide, com'è fatto a sbloccarvi? dammi un consiglio, a meno così allora non si può guarda, facciamo così ce l'ho scritto qua allora, diamo il premio a Massimo Foschi Massimo Foschi ah, di qua? volevo aggiungere qualcosa il nostro Davide? ci ho ripensato, almeno in parte perché non voglio rovinare il video quindi diciamo che dovevamo fare una serie di piccoli video però diciamo che data l'atmosfera cinematografica e qui in teatro non a caso non potevamo non ricordare in modo particolare con un unico video di un'unica interpretazione ma di quelle tra le più straordinarie stellari direi quindi insomma saprete chi è lasciamo la parola alle immagini e poi parliamo Massimo Foschi ti sei battuto è inutile resistere non lasciarti distruggere come fece Obi-Wan non hai scappo non lasciare che ti distrugga Luke tu non ti rendi ancora conto della tua importanza hai solo cominciato a scoprire il tuo potere vieni con me e io completerò il tuo addestramento unendo le nostre forze possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella classica non verrò mai con te se tu solo conoscessi il potere del nato su futuro Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accade a tuo padre mi ha detto abbastanza che sei stato tu ad uccidere no io sono tuo padre non è possibile cerca dentro di te tu sai che è vero no no Luke tu puoi distruggere l'imperatore lui lo ha previsto questo è il tuo destino unisciti a me e insieme potremo governare la classica come padre e figlio una scena memorabile del cinema internazionale e memorabile una scena doppiata da Claudio Capone e Massimo Foschi a te grazie grazie mi fa particolarmente piacere essere qui sono quasi sono commosso non c'è niente da fare io volevo bene a suo padre abbiamo fatto insieme abbiamo lavorato tante volte insieme in questo film particolarmente sono veramente commosso grazie Massimo non ci puoi sentire più a casa sì io sono a casa decisamente non avevo forze ormai sono vecchio quando ho salito hai visto ero piegato a metà eppure nel mio mondo oddio non è solo questo il mio mondo il mio mondo nasce anche molto prima il film di Visconti gruppo di famiglia in un interno Bart Langaster oppure morte a Venezia tanti tanti altri veramente lavorare cercando la qualità insieme perché è un lavoro d'equipe è la cosa più bella veramente è la cosa bella che ci fa essere migliori come attori grazie grazie a te signor e signori premio Claudio Capone a Massimo Poco grazie a te signor prego io portavo grazie